Quello che vedete è finocchio selvatico messo ad asciugare. Rimarranno in queste ceste per qualche settimana, poi verranno recuperati i semini e messi in alcuni vasetti. Finocchio selvatico delle nostre timpe si addice per la preparazione di tante cose, i salumi, la salvella e tante tante altre pietanze nostre tipiche calabrese. Il suo profumo è inconvondibile, molto molto forte, irraggiante, veramente incredibilmente fantastico.